Sono passati circa quattro anni dal completamento dello sgombero di via Puccini dopo un lungo processo e furono trovate altre sistemazioni per le numerose famiglie che vivevano in quelle palazzine. Adesso, grazie ai fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potranno essere realizzati alcuni degli interventi necessari, così come ha spiegato il direttore generale degli ACP Antonio Mameli durante la cerimonia di inaugurazione del tratto di via Piola Torre, svoltasi nei giorni scorsi. In via Puccini abbiamo avuto 64 alloggi sgomberati per problemi tecnici e fortunatamente con il PNRR abbiamo ottenuto l'ammissione, il finanziamento dell'intero progetto relativo al recupero delle due palazzine. Ma la cosa più importante invece è che abbiamo ottenuto il finanziamento di parte di questo intervento per cui a breve sarà bandita la gara, i progetti sono stati presentati ed approvati per il recupero e la ristrutturazione delle palazzine ricorrenti nei civici 3 e 5. È un altro passo importante per la città perché anche quella zona come questa è un biglietto di visita per l'ingresso alla città perché chi arriva da fuori la prima cosa che incontra è proprio la via Puccini, quindi vogliamo fare un intervento che caratterizzi la droga e soprattutto la qualifichi. Grazie a tutti.